Si tratta del secondo esemplare di Cinghiale che era stato avvistato il mese scorso in alcune stradine che costeggiano Monteirice. Il primo, come noto, era stato preso e messo in sicurezza nell'area di Maniare di Martogna, ma si erano perse le tracce del secondo. Fino a stamattina, quando alcuni operai che stanno lavorando alla realizzazione dell'area di sgambamento per cani dentro la cittadella della salute, lo hanno visto passeggiare. E' stata quindi chiamata la forestale per prendere il cinghiale che così è stato portato in sicurezza anch'esso in località Martogna, a Derica.